Sindaco, una bella mattinata importante, ovviamente il Vice Secretario Generale dell'ONU presente ad Arezzo ed è una presenza che testimonia come Arezzo, come Rondine vogliono lanciare un messaggio anche attraverso queste personalità così forti. Sicuramente, è nato anche un rapporto direi personale con Moratinos che ha molto lavorato e sta indicando anche questa parte della sua vita a tessere relazioni internazionali nell'alveo del camminare insieme, come dice lui, e quindi nell'alveo della ricerca della pace e della concordia tra le cività e tra i cittadini e ha, secondo me, correttamente messo a fuoco il tema che oggi più che mai le città contano quasi più che le nazioni, quindi il network tra le città è quello che in un prossimo futuro potrà produrre i risultati migliori e Arezzo direi che è uno dei perni di questo sistema delle realtà urbane perché con Rondine ha già fatto un percorso più che ventennale sulla ricerca della risoluzione dei conflitti. Sono molto colpito da Rondine e da Arezzo, qui respira la pace, la sente, la vede, vede che i giovani stanno lottando per la pace è molto ispirato da Rondine e da Arezzo e chiederà a tantissimi di venire a visitare entrambe le realtà per vedere che c'è veramente un'alternativa concreta e che i diritti si possono difendere anche con la pace la diplomazia non è stata inventata per chiacchierarne e basta ma per essere applicata poi nel concreto e questo è quello che ha visto a Rondine.